Si è svolto oggi pomeriggio il torneo Coppa Regione Trentino Alto Adige di Pallavolo, nella splendida cornice del piazzale Segantini ad Arco. Sentiamo l'intervista. Coppa Regione Trentino Alto Adige di Mini Volley, spiegaci un attimo il torneo. Il torneo è una coppa che abbiamo organizzato negli ultimi due anni qua ad Arco e si svolge tra bambini dalla prima media alla terza elementare, maschi. Ed è una coppa che coinvolge sia tutte le squadre del Trentino Alto Adige e anche una squadra di Verona. Quante squadre partecipano? Allora partecipano 25 squadre, abbiamo 20 squadre che vengono da fuori e 5 squadre nostre di bambini locali. La scelta di farlo in piazza è per rendere partecipato il vostro sport? Sì, quello che intendiamo fare con questo torneo è promuovere la Pallavolo a livello locale e comunque poi giocare in uno scenario come questa piazza qua è bello anche per i bambini perché indubbiamente è un bel posto per giocare. I numeri un po' della Pallavolo C9? Il Pallavolo C9 ha dei numeri buoni in crescita rispetto agli anni precedenti. Come settore minivolley, che è quello che seguo io, abbiamo 200 ragazzi delle elementari. Rispetto all'anno scorso è un numero in aumento e siamo contenti di come sta rispondendo i ragazzi alle nostre proposte. Allora, approfittavo per ringraziare Avis che ci ha accompagnato nell'organizzazione di questo torneo qua e l'amministrazione comunale di Arco che ci ha messo a disposizione questa bella piazza per fare il torneo.